Gentili telespettatori, buona giornata. Il meccanismo salvastati, le sue modifiche, perché il meccanismo già salvastati esiste già dal 2010-2011, è passato alla Camera dei Deputati a Montecitorio, dove i numeri sono più ampi ed era sicuro il suo passaggio. Adesso Conte si sposta al Senato a Palazzo Madama, lì attesa per i numeri ci sono voci di fuga dei 5 stelle. Il presidente del Consiglio dopo l'informativa e il voto sulla risoluzione sul MES si sposta appunto a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Alle 16 e... o meglio alle 15 e 40 il presidente Conte comincia a parlare in aula al Senato. Attesa per i numeri, la maggioranza assoluta è di 161 senatori. Voci di fuga dai 5 stelle, 4 o 5 senatori sono in partenza per Lega o gruppo misto. Alle 15 e 52 bizzarrie geopolitiche in aula. Il senatore napoletano 5 stelle Ugo Grassi, dato in partenza per la Lega, siede alla destra del capogruppo del movimento, il romano Gianluca Perilli. Alle 16 e 29 il presidente Conte ha letto 19 pagine di discorso nell'aula del Senato, interrotto solo un paio di volte da buu leghisti. Nel frattempo Campanelli di 5 stelle intorno a Ugo Grassi per provare a convincerlo a non lasciare il gruppo in direzione Lega. Alle 16 e 48 il leghista Bagnai interrompe il torpore generale e smentisce ironicamente il collega Borghi. Io per Conte non parlerei di tradimento, parlerei più di melodramma all'italiana. Con lui, lei è l'altra. Intanto facciamo un resoconto di quello che è successo questa mattina alla Camera dei Deputati a Montecitorio. Alle 8 del mattino il dispiaccio fuorisacco dei Di Maio, Bois, piomba alle 8 e 11 sugli smartphone dei giornalisti. Accordo sul MES, chiuso alle 2.30 di notte, confermata la logica di pacchetto. Alle 9.32 commessi di Montecitorio in ansia, il presidente Conte non ancora imboccato, il sottopasso di Palazzo Chigi e Roberto Fico aspetta. Alle 9.35 Fico scherza con i giornalisti. Avete visto la notizia del giorno? Il MES presidente, ma no, Gattuso va prima al Senato, poi viene da me alla Camera, risate bipartisan. Alle 9.37 ecco Conte, stretta di mano con Fico e classica dei cronisti sui premier più ritardatari, vincerenzi che soltanto Putin faceva aspettare. Alle 9.45 Conte inizia a parlare del MES con l'emiciclo di Montecitorio mezzo vuoto, ma non era questione di vita o di morte per i partiti italiani. Alle 9.49 il premier Conte cerca toni alti e auspica un maggiore coesione tra i leader europei. Non è questo il tempo per dividersi. Alle 9.51 il metodo inclusivo di Conte per placare Di Maio, far partecipare il Parlamento, far partecipare appunto il Parlamento. Alle 9.52 mille miliardi per il Green Deal Giuseppe Conte sogna in verde. Alle 9.56 bilancio dell'Unione Europea 2021-2027 per Conte la proposta della presidenza finlandese. 1.087 miliardi è insufficiente. Più soldi, please, dice. Alle 9.57 buongiorno ai ministri Speranza, Dadone, Bonafede, Franceschini, Amendola, Guerini, Di Maio e gli altri bloccati nel traffico perché Di Maio non si è presentato. Alle 9.59 Di Maio ancora non c'è, ma i suoi mandano un video del capo politico sul MES. Sta parlando a Palazzo San Macuto, a margine dell'audizione su Schengen. Alle 10.06 il presidente Fico richiama il leghista Borghi che rumoreggia. Alle 10.10 Conte sul meccanismo europeo di stabilità, il MES. Evoca l'Italy Exit e prova a smascherare Salvini e Meloni dicendo che è colpa e che questo è tutto un pretesto, quello del MES, ma in realtà loro vogliono uscire dall'euro e questo è solo un pretesto. Quindi secondo Giuseppe Conte i fini sono altri, ma in realtà voi sapete qual è il problema sul meccanismo salva stati. Alle 10.17 Giuseppe Conte arriva al dunque e tranquillizza gli italiani sul MES. Dice che il nostro debito è sostenibile e che i risparmiatori non hanno nulla da temere. Negli stessi minuti, a margine dell'audizione su Schengen, Di Maio a Palazzo San Macuto ringrazia. Si fa per dire Salvini e Meloni, dice il MES è un loro regalo. Esiste dal 2011, l'hanno approvato con Berlusconi. Adesso è ridicolo che loro siano contro, ma attenzione, il MES di prima era nuovo, nessuno sapeva esattamente quello che avrebbe fatto. Qui ci sono delle modifiche che vanno assolutamente a peggiorare. La situazione per l'Italia, se un futuro dovesse chiedere dei soldi a questo meccanismo, dovrebbe ridurre il suo debito di più della metà. E come si riduce un debito di più della metà? Ci vogliono 230-240 miliardi di euro. Bisognerebbe chiedergli agli italiani banche e aziende. Ma Conte dice che il sistema italiano il debito è sostenibile, quindi non avremmo mai bisogno di chiedere aiuto al MES. Ma il debito italiano è sostenibile fino a un certo punto, perché ogni anno peggiora. È uno dei più alti del mondo, il secondo più alto in Europa dopo la Grecia. L'economia è stagnante. Ogni anno si devono cercare altre tasse, altri soldi per coprire i buchi. Come fanno a dire che il nostro debito è sostenibile? Non avremo mai bisogno di prestiti quando noi siamo quasi tra quelli al mondo che di più hanno chiesto prestiti. Comunque, alle 10.23, per dimostrare che mentre Conte parla non lo ascolta neanche la sua maggioranza, il deputato della Lega Igor Riezzi posta una foto dell'aula. Intanto Conte ha finito di parlare e i ministri se lo sono svignata. Resistono Dadone, Speranza, Bonafete, Franceschini e Amendola. Alle 10.25, primo richiamo formale di Fico per Mollicone di Fratelli d'Italia, che grida a squarciagola la maggioranza. Vi siete venduti anche l'anima, proprio gridando. Cartellino giallo anche per Giorgia Meloni. Alle 10.27, Conte ha chiuso pronunciando la formula magica voluta da Di Maio. Nel caso di eventuale richiesta di attivazione del meccanismo europeo di stabilità, il Parlamento sarà pienamente coinvolto con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione. Alle 10.29, secondo cartellino giallo di Fico per Mollicone, che si mette più volte la mano in faccia per mimare un naso di pagliaccio. Deputato Mollicone, ma che gesti fa? Alle 10.29, un'ora dopo il gong, l'aula della camera sembra essersi svegliata. Buongiorno. Alle 10.34, la passionaria del PD, Lia Quartapelle, smaschera la campagna di mistificazione contro il MES della bestia di Matteo Salvini, la macchina online della propaganda leghista, e dice io non ho paura, anche se sono stata esposta all'agonia mediatica che la Lega crea online. Dalla destra, rumori. Alle 10.49 e adesso bagarre. Alle 10.40, dai banchi della Lega, si alza il coro venduti, venduti, venduti verso PD e 5 Stelle. La destra accusa il presidente Fico di essere di parte. Scoppia la polemica tra opposizione e inquilino di Montecitorio, che prova a insegnare ai suoi alunni le basi della buona educazione. Non si grida in aula, si alza il dem Gennaro Migliore, ex Bertinottiano. E bacchetta Fico, lei deve prendere provvedimenti, altrimenti viola il regolamento. Gridare venduti è un illecito penale. Risate e grida dai banchi leghisti. Ma il merito della questione MES pare non interessi a nessuno. Alle 10.58, show del leghista Claudio Borghi che cita il calpesti ed erisi e l'inno nazionale si esercita sul tema traditori della patria ed elenca i nomi dei 5 Stelle che accusa il pasdaranno euro avrebbero cambiato idea sul fondo salva stati. La logica di pacchetto, cavallo di battaglia del premier in Europa, è una scemenza, dice. Alle 11.40 nessuna volontà di creare uno scontro o alzare polemiche politiche sulla prescrizione. Il guardasigilli Alfonso Bonafede improvvisa una conferenza stampa volante su giustizia e intercettazioni davanti alla buvette della Camera. E mentre in aula il dibattito sul MES procede stancamente verso il voto, il ministro di 5 Stelle apre al predecessore Andrea Orlando. Le intercettazioni possiamo approvarle insieme. Alle 12.32 Maria Stella Gelmini in aula fa un intervento quasi dialogante ma poi Forza Italia firma la risoluzione della Lega contro il MES e così il centrodestra arriva al voto compatto con un testo Molinari-Gelmini-Lollobrigida-Lupi. Maggioranza schierata con otto pagine dai capigruppi del rio Silvestri-Boschi-Fornaro e il radicale Riccardo Maggi di più Europa in splendida solitudine con le sue quattro righe. Dopo la revisione del trattato trasformare il MES da meccanismo intergovernativo a strumento comunitario integrato nell'ordinamento giuridico dell'Europa ma niente il parere del governo è negativo. Alle 12.41 non siamo isolati no siamo rinchiusi dentro una botola. Tocca a Giorgia Meloni al leader di Fratelli d'Italia che picchia sul governo continuano a parlare del buio del sovranismo. Parole scandite da una vocina piagnucolante ma in Europa bisogna starci garantendo anche i nostri interessi e non solo quelli di Germania e Francia. E ancora mi rispondete perché dobbiamo usare i soldi degli italiani per aiutare le banche tedesche? Infine Meloni io faccio paura sono una terrorista agita lo spauracchio di Tafazzi e della manina nei conti correnti che un giorno chissà potrebbe pescare dai risparmi degli italiani per rimborsare il debito pubblico. In estrema sintesi questa roba qui non va sottoscritta dice la Meloni gridando. Alle 13.17 due soli ministri rimasti a far da scudieri a conti di inca per i 5 stelle e a Mendola per il PD. L'aula della Camera arriva al voto sul MES con tanti banchi vuoti ma la buvette è piena perché è l'ora di pranzo e mentre parla un esponente leghista sconosciuto anche i cronisti parlamentari più esperti il premier si alza e se ne va e tra poco si vota. Alle 13.36 5 stelle Francesco Silvestri sfida il leghista Giancarlo Giorgetti. Chi siete? Poi dopo giorni di violente polemiche che hanno portato il governo Conte sull'orlo del baratro il candidato tesoriere del gruppo di Di Maio annuncia il convinto voto favorevole del movimento. Poi tutta l'aula finalmente in piedi scatta in piedi in memoria di Antonio Magalizzi a un anno della morte applausi poi silenzio. Quindi Giorgetti a titolo personale dice feci una battaglia per introdurre in Costituzione l'equilibrio di bilancio. Alle 13.40 finalmente si vota passa con 291 voti per la russoluzione di maggioranza e 222 no. Governo avanti e commemorazione della strage di Piazza Fontana. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche poi su Facebook Tele Italia Notizie dove trovate tutti i video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata.